Ce n'è moltissime, a partire dalla famosa Madame Curie, la quale è stata una donna che ha avuto una vita piena e secondo me è un grosso valore ricordare i suoi amori, le sue trasgressioni, il suo ruolo di madre, il suo ruolo di militante. Però ce ne sono anche di più recenti. Quello che voglio dire, al di là dei nomi che adesso farò, è che spesso le donne scienziate che hanno avuto successo sono persone sempre molto impegnate anche nella vita sociale. Non è assolutamente vero che siano singole, non si siano sposate, qualcuna forse, ma non tutte. Chi voglio ricordare? Per esempio Dorothy Hopkins che ha scoperto tantissime cose per cui riguarda le proteine e che anche lei aveva una grossa visione sociale, aveva le sue opinioni politiche, che si occupava della vita delle persone con cui lavorava, chiedeva sempre come stavano i bambini dell'una e dell'altra. Rita Levi Montalcini, lei non si è sposata, ma è l'unica di quelle che cito che non si è sposata, la quale però, come si vede ancora adesso, ha un interesse sul sociale ancora trabordante, oltre i suoi cent'anni, si occupa delle donne, ha come idea fissa quella di acculturare le donne africane, non posso che non ammirarla completamente per queste sue capacità. E poi posso aggiungere l'ultimo premio Nobel per la chimica, Ada Jo Yonat, la quale non a caso, e lei è un'israeliana, appena avuto il premio Nobel, una delle prime cose che ha dichiarato era sostanzialmente quanto lei fosse per la pace, contro la politica aggressiva di Israele e per una pace con i palestinesi. Però l'altra cosa che è bello ricordare con questo finisco, è che l'ho sentita a ISUF 2010, l'European Science Forum che c'è stato a Torino, e quando le hanno chiesto per il suo premio Nobel cos'è la cosa che le è piaciuta di più, ha detto, è la mia nipotina che mi ha detto, sei la nonna dell'anno. E con questo credo di poter sottolineare che le donne sono diverse dagli uomini. Grazie. Grazie. Grazie.